Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale Allora, in questo video io è da un po' che ci stavo riflettendo perché, sapete, si sta avvicinando il carnevale quindi vedo spesso bambini travestiti da personaggi dei cartoni animati, quindi anche quei cartoni animati che sono vecchi, tipo la sirenetta, biancaneve, cenerentola, eccetera Allora, io stavo riflettendo sul vero significato della storia di cenerentola perché alla fine, secondo me, cenerentola è molto più di questo cioè molto più di quello che noi abbiamo visto, vediamo Allora, praticamente ci insegna molto, perché? Perché cenerentola è una ragazza che è presa appunto di mira dalle sorellastre e dalla matrigna la vogliono appunto schiavizzare e loro non fanno niente questa è la prima parte, diciamo così, della storia la seconda parte, diciamo, che è quella più significativa che a me piace di più è proprio appunto il ballo l'invito appunto al ballo da parte del principe perché il principe doveva appunto prendere in sposa una ragazza e chiaramente hanno invitato diciamo tutte le nobili del regno compresa la sua famiglia perché la sua famiglia se famiglia si può chiamare era nobile non a livello, diciamo, del principe però cenerentola no cioè lei faceva parte di quella famiglia però non poteva soffruire di niente e quindi alla fine grazie appunto ai topolini e alla fatina è riuscita appunto ad andare al ballo però a mezzanotte se ne doveva andare perché sarebbe tornata a essere una serva però questa favola al di là di quello ci insegna veramente molto perché perché il principe è un nobile però alla fine la donna che ha scelto come sposa è stata proprio cenerentola non è che si è andata a scegliere un'altra donna nobile tutto proprio cenerentola che era una sguattera poi da una parte ci stanno anche appunto la matrigna e le due sorellastre cioè la matrigna premeva in un certo senso alle figlie che dovevano fare una buona impressione al principe perché perché appunto così una delle due si sarebbe sposata il principe avrebbero avuto più soldi e questa è un'altra cosa che è brutto è una cosa molto brutta perché alla fine se una persona in questo caso una delle due sorellastre di cenerentola si doveva sposare il principe non per amore ma per i soldi è una cosa molto brutta però poi alla fine il principe ha scelto diciamo l'unica che non era ricca lì in mezzo proprio cenerentola una sguattera dopo che appunto è scazzata la mezzanotte chiaramente cenerentola se ne è dovuta andare di corsa ha perso la scarpetta e il principe si è messo appunto a cercare quella ragazza per tutto il regno e lui non si è fatto problemi quando ha trovato la ragazza la stessa ragazza che ci aveva ballato vestita con le stracce addosso e non con quel meraviglioso abito di quella sera perché alla fine la bellezza interiore è quella che conta di più e la vera ricchezza non è avere i soldi o le proprietà o o i gioielli d'oro e altre cose ma la vera ricchezza è la ricchezza del cuore e anche il padre ovvero il re non si è fatto problemi a sapere che il figlio sarà scelto una una serva e dopo che si sono appunto sposati il principe quest'altro insegnamento il principe non ha trattato Cenerentola come una schiava come facevano la matrina e le sorellastre ma l'ha trattato come una principessa cioè non ha detto siccome tu adesso hai fatto sempre così sei stata sempre a fare quelle cose allora devi continuare pure adesso assolutamente no e secondo me questa favola ci insegna molto ci insegna che bisogna scegliere una persona la persona che amiamo a prescindere se hai soldi o meno ci insegna che il rispetto ci insegna praticamente tutto ci insegna anche che è sbagliato scegliere una persona dire mi voglio mettere con quella persona perché così ho i soldi quindi quindi secondo me la favola di Cenerentola è molto più di questo veramente una vera lezione di vita bene ragazzi per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video un po'